Ciao a tutti, in un video precedente ho sorpreso un po' tutti perché il titolo era molto semplice come calcolare i cavalli della tua auto, però effettivamente molti non sapevano quello di cui abbiamo parlato quindi per questo motivo ho voluto fare un secondo video dove vi indico facilmente dove andare a recuperare altri due dati molto importanti della vostra auto, il numero di telaio e il codice motore partiamo dal numero di telaio, il numero di telaio lo trovate sul libretto di circolazione in corrispondenza della lettera E invece il codice motore lo trovate sempre sul libretto di circolazione in corrispondenza della sigla P.5 con questi due dati potrete identificare univocamente la vostra auto e quindi anche i relativi ricambi siano essi standard o sportivi e se volete altri video come questi o conoscere i nostri prodotti vi invito a seguire i nostri social, youtube, instagram, facebook e tiktok e naturalmente a visitare il nostro sito www.repartocorsestore.it alla prossima, ciao!